Il Duomo di Milano è costantemente meta di turisti provenienti da ogni parte del mondo, questo ovviamente oltre alla naturale affluenza di fedeli. Nel solo mese di luglio la media di visite turistiche è stata di circa 7.000 al giorno. Tutto questo per poter vedere da vicino quello che è il più importante esempio di stile gotico nel nord Italia. Per questo scorcio di estate la veneranda fabbrica del Duomo che ad ottobre festeggerà i suoi 630 anni di storia propone visite accompagnate da guide specializzate da prenotarsi e che si terranno ogni sabato di agosto. Così il tour del Duomo nella durata di 90 minuti previsto per il 5 e il 19 di agosto e la passeggiata tra le guglie della durata di un'ora prevista per il 12 e il 26 di agosto. Il tour del Duomo prende avvio dall'area archeologica sottostante la cattedrale consentendo di scoprire il battistero e la storia della chiesa di Santa Tecla con la possibilità di ammirare San Giovanni alle fonti, il primo battistero a pianta ottagonale della cristianità nonché vedere i resti delle murature della Milano dita imperiale. Da qui i visitatori saranno condotti nella cattedrale con le sue 3400 statue e le 55 vetrate colorate oltre ai grandi altari dipinti. Dopo la visita al Duomo i visitatori verranno condotti in ascensore fino alle terrazze per potersi inoltrare tra guglie e sculture di marmo per quella che è stata ribattezzata una foresta di pietra con le sue 135 guglie in marmo rosa di candoglia un percorso questo che porta fino alla terrazza principale che offre un colpo d'occhio magnifico sul panorama della città trovandosi poi ai piedi della guglia maggiore dove la statua della Madonnina apre le braccia al mondo in un messaggio di pace e protezione. La Veneranda Fabbrica del Duomo inoltre ha organizzato per i mesi da settembre a dicembre altri sette appuntamenti davvero speciali per poter offrire l'opportunità di conoscere i luoghi del Duomo che solitamente non sono visitabili e così si inizierà con la visita del 9 di settembre alle 15.30 per parlare delle origini del Duomo ed otto giorni più tardi della Nivola con una descrizione su arte del rito e così proseguendo sui temi della natura del Duomo la visita della Sacristia Aquilonare i racconti di luce, il popolo del marmo i racconti di archivio tutte queste visite devono essere prenotate via posta elettronica oppure telefonicamente da lunedì al venerdì allo 0289015321 il sabato e la domenica allo 0272023375 e la domenica allo 02890153215